La vicenda dell'impianto irriguo gestito dal Consorzio di Bonifica Centro nel territorio di Scafa, la mancanza di acqua dovuta essenzialmente alla vetustà dell'impianto e la non perfetta manutenzione dello stesso sta provocando danni significativi alle colture ma soprattutto alle imprese agricole. La cosa paradossale è che l'acqua nel territorio di Scafa c'è ma appunto la non perfetta manutenzione dell'impianto non permette di erogarla e c'è di più nonostante i solleciti il Consorzio continua a richiedere il pagamento dei tributi agli allevatori e agli agricoltori. Stamane l'incontro col commissario del Consorzio avvocato Mario Battaglia. È stata registrata un'apertura? Sì, noi oggi abbiamo ricevuto delle delucidazioni, il fondo un finanziamento di 250 mila euro che l'anno scorso noi abbiamo fortemente chiesto, è stato redatto un progetto che il 14 aprile questo Consorzio ha inviato in Regione sperando che inizieranno il prima possibile i lavori. Il commissario che cosa vi ha detto in merito ai tributi? Che cosa devono fare adesso coloro che fruiscono dell'acqua che non c'è tra l'altro per evitare di pagare i tributi per un servizio di cui non hanno beneficiato? Purtroppo lui ribadisce che ha le mani legate da leggi nazionali e quindi purtroppo i cittadini debbano pagare. Questo per me è qualcosa da paradossale, assurdo. Chiederemo all'assessore e al presidente un incontro immediato per far fronte alle problematiche di questi canoni. Ci sono le risposte, le cartelle che stanno arrivando, cartelle verdi con delle more e avvisi di pagamento. La priorità mi pare di capire la riparazione delle condutture. Entro quanto tempo si può sperare che i lavori saranno ultimati? Non si sanno quando inizieranno i lavori perché c'è bisogno la Val della Regione e parallelamente loro ci hanno garantito che daranno il servizio a partire da maggio. Man mano che troveranno la rottura, loro ripareranno mano per mano. Se ci confrontiamo a due anni fa, ipotizzo che quest'anno non avremo l'acqua.